allestimenti per il mio funerale nessun religioso di nessuna fede vanno benissimo deliranti laici coreografie danzante maschi e femmine a disposizione degli ospiti alle sequie musica varia di tutto il mondo ed epoca a parte una fuga obbligatoria di buck cibi grassi grassi e dolci dolci per tutti il colesterolo si sa sia un ottimo amante poi di corsa presto al forno crematorio chi non riesce a correre taxi gratis le ceneri verranno disperse nelle case l'elenco è sotto il pianoforte a muro tutta la giornata canti licenziosi e goliardici torneremo alla polvere confondendoci con la sabbia del deserto dove ormai abituati chissà se il collezionista di rena ci conserverà sotto vetro per una sua clessidra personale ossequi ed esequie a tutti grazie grazie grazie